Ragazzi, oggi ragazzi siamo qua con il mio team di Fortnite Il mio team di Fortnite ovviamente è composto da Il Capitante Tidodi E il Capitan Gisgallo 2010 Ciao Ciao ragazzi Ciao ragazzi Una roba incredibile Oggi nello shop No Ci si è ritrovato Io mi sono ritrovato 1520 VBAC Nell'altro account, quello che sta usando il Capitante Tidodi Ci vediamo quando atterriamo? Ok raga, sto atterrando E sono con questo team di Scarsoni Che ovviamente sta già per morire No scherzo Ok raga, ho già una mitraglietta E io ho un Capitante Raga, io sono morto No! Ma come? Ma come? Come? E come è vero? Salve raga Raga, io scatto Sono semplicemente morto Aia, 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 aia Corca, no scappiamo, scappiamo Ma io lo sapevo che non dovevamo andare a Gatto Hai preso la sua scheda? No No perché c'è un'inchizzi Vado con il camion Ora Non mi ha visto Quel crittano Quello stupido Non mi ha visto Noob Loser Prendi il caccio Prendi il caccio Prendi il caccio Dove? Ma stai calmo Aia Io me ne vado Ciao Mi prego non morite Che io sono morto Io sono morto No, no Oh, arrivo a salvarti Con il camion Sì, vabbè, grazie Grazie, eh Grazie per l'aiuto Io non c'è un'arma Oh, cosa? Cosa? Ciao, io sono morto Scappo, scappo, scappo Ok, io me ne scappo Non ci sono trovato Non è la casa Addio Sì, vabbè Addio, ragazzi Ok, ragazzi Scusate Perché c'è stato Un po' un casino Cioè Non capivamo niente C'è stato un po' un casino Però adesso ci siamo Siamo i 6 Io ho pochissima vita Non so che cosa devo fare Boh Ci vediamo quando iniziamo un fight A presto Ciao Raga, ci siamo Boh, mamma mia Raga, un casino Raga, un casino Li abbiamo trovati Ma ho pochissima vita Dai, fammi di care E' un casino Grazie 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 Ragazzi Penso In questo Raga, ma In che situazione Oh, andiamoci L'ho ammazzato Con la pistolina Mamma mia Mamma mia Raga Mamma mia Mamma mia Mamma mia Oddio Raga Porca miseria Oh, raga Dove che è la lambo Andiamo Oh, no Fingiamoci il benzinaio No, vabbè Scherzo Aspettate Ok, scudone Prendiamocelo Ben No Tipi E porca miseria Oddio Oh, oddio Anche me Eccoli Eccolo 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 Spariamolo Aia 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 Ma quanti sono No Non ci credo Non mi posso lasciare Non mi ha perquisito Sa dove sei Vieni qua Divassalo Dai, raga Dai, raga Abbiamo Ci mi ha ucciso Vabbè Ovvio Ragazza Ma è Sì Vabbè Dai Poi No Ma è l'appliato Come se non ci posso Il domani Vabbè Ora partita col team L'abbiamo fatta Vabbè ragazzi Io spero che questo Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare La pin su Iscriviti al canale Ti va alla campanellina Io ringrazio Questi due Salutate Ciao Ciao E noi ci vediamo In un prossimo video Bella Ciao 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 Ciao